Eccellenza, oggi sono cinque anni che Papa Francesco è salito e è stato eletto al soglio di Pietro. Com'è che vive l'Arcivescovo di Milano questa giornata, anche nella memoria di quell'evento straordinario, poi degli incontri che ci sono stati successivamente, Papa Francesco che l'ha voluta a Milano? Beh, io vivo augurando al Papa tanta salute, tanta serenità, tanto buon lavoro. Ecco, io penso che il Papa Francesco nella nostra regione si è reso sensibile ed è accolto con grande benevolenza da tutti. L'abbiamo visto, tra poco ricorre l'anniversario della visita del 25 marzo, quando l'immagine di Milano che accoglie il Papa è stata veramente l'immagine di una coralità. Ecco, quindi a parte insieme con i cattolici e con tutti coloro che hanno un riferimento al Papa legato all'appartenenza convinta alla Chiesa Cattolica, però mi è sembrato che fosse un atto corale della città. Quindi io mi unisco a questo coro di persone, a questa folla che ha riempito lo stadio di San Siro, il parco di Monza, le strade del percorso, proprio per dire al Papa Milano ti vuole bene, Milano ti ricorda con affetto e riconoscenza, Milano ti ascolta con attenzione lasciandosi provocare e così indirizzare dalle tue parole.